Benvenuti, cari follower, se gli aggiornamenti sono molto violenti dal modello europeo di qualche tempo fa e attirano quantità enormi di pioggia in Italia che superano i 250 mm nei prossimi giorni, nello specifico questo fine settimana, a partire da venerdì notte, 19 maggio fino 26 maggio 2023 e una serie di forti perturbazioni meteorologiche, ma prima di entrare nei dettagli. Spero che tutti ci supportino prima con un mi piace per questo video, poiché siamo molto stanchi per trasmettervi queste informazioni su un base continua e quotidiana, quindi non lesinare su di noi con il supporto mettendo mi piace a questo video e trasferendo la consegna di questa clip a più di 5000 mi piace per motivarci a continuare e fornirti sempre il meglio quindi, come puoi vedere nel picture, nei prossimi giorni in Italia sono attese ingenti quantità di pioggia, localmente comprese tra 50 e 280 mm, da nord a sud, e questa volta anche l'isola di Sardegna, che ha sofferto una lunga siccità, tornerà a piovere forte e in quantità superiori a 130 mm e questo è durante il periodo da venerdì sera, 19 maggio al 26 maggio 2023, e dettagli più accurati, rimanete sintonizzati per questo più tardi e, alla fine, che possiate essere in buona salute.